Wender presenta WENDER ACTION WENDER ACTION, ANIMAL ACTION, ANIMAL ACTION Sì, ieri durante il WENDER ACTION con le voci di Gianni Limpianchino abbiamo trovato questo personaggio incredibile, sentite Io voglio sapere lei chi è? Io sono un semplice bianchino Ecco, io sono un semplice contadino, un semplice cittadino di Orbasan Fantastico, non posso buttarlo così e lasciarlo del nulla Ho deciso di prendere le sue voci E quindi cosa faccio io? Estraggo da quel file le voci del vecchietto, queste qua Pronto? Io cosa le devo dire? Io voglio sapere lei chi è? Carette? Io non lo so E adesso richiamo lui, sì, il vecchietto di Torino E quando risponderà parlerà con se stesso E quindi mi trasformo io nel vecchietto di Torino E richiamo lui, il vecchietto di Torino Siamo pronti? Andiamo con il testa test Testa, 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 testa Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Io cosa le devo dire? Lei che mi ha telefonato Ma guarda che lei non è a posto Non mi ha chiamato Eh? Non mi ha chiamato Io? Ma io voglio sapere lei chi è Ma io chi sono? Lei mi ha telefonato Ecco, io sono un semplice contadino Un semplice cittadino di Orbasano Ma io non l'ho chiamato E allora? Ma allora perché lei mi ha chiamato adesso? Non lo so se lei non mi dice chi cerca Ma io non cerco nessuno Io non ho telefonato a nessuno E non lo so io cosa Quella parola lì non la conosco Ma che senta un po' Ma chi è lei di Orbasano? Eh? Lei è di Orbasano? Sì? Eh? E chi è che l'ha chiamato adesso? Carete? Eh? Carete? Cosa c'è? Nei carete, nei niente Mi sai neanche cosa dire E allora cosa c'è? Chi cerca? Ma se non c'è alcun Mi hai telefonato a nessuno Mi hai telefonato? No Però guarda che hai sbagliato numero Hai sbagliato No ma io ho telefonato a nessuno Io sono arrivato adesso da Torino Ecco, io sono un semplice cittadino Eh? No ma, no ma Lei non deve rompere i coglioni No ma è lei che mi rompe i coglioni a me E allora va a fare il culo E bravo, conti Eh, forse hai sbagliato una persona Ma 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 Io telefono a chi telefono? Ma io non ho telefonato a nessuno E io quello le devo dire Lei che mi ha telefonato E lei adesso mi ha telefonato a me E allora va a fare il culo E stop Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno Non esitare a contattarmi Lasciandomi il suo numero di telefono Scrivi a Wender At DJ Punto IT Mi raccomando E al resto Ci pensa e resta Wender Action Non esitare a contattarmi 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 Non esitare a contattarmi